Linea! Siamo abituati a prendere, riesce a provare e avviene il gol. Spettacolo la tuccia nera! Scoti! 5-6! 1-3! 1-3! Balla al centro! Gli buoni chassetti! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Allora, Jennifer, Andrade, Donnella, Lorena, Giù, Assata, Luciano, Sara Tuiglia, Carol Gless, Carol, e basta, Carol, Jessica, Chris, Lennon, Natalia, Palazzo, Cepiro, e poi veramente andiamo nel senso prole in questa partita di aria poi vengono meira, flores, sines, per una distrazione e scatare in sua porta e quindi vengono quattro Siamo tornati in diretta dal puetto di Cagliari, il campo da Pongo per l'altra semifinale della propria linea, Spagna e Portogallo, quindi la semifinale femminile non abbiamo vissuto, ma quella maschile, la prima.